E anche a Paolo Pernone, resta la mano Paolo? Semmi un pesce gatto che ha la barba Paolo sei un po' un feto No io non ti conosco, fa niente, possiamo fare amicizie come no Chi è Paolo? Sono io Ah ciao, piacere Mio Paolo avevi qualche domanda? Chi è Paolo? Sono sempre io Baby Daddy Sei veramente irrilevante La mia autostima scarse a giorni e secondi in tua compagnia Baby Daddy, Paolo vuole sapere altre informazioni che ci ha detto prima Che tu non c'eri Paolo, Paolo che ti sta guardando Vuole sapere altre informazioni Da casa ci guarda? Tu da dove ci guardi? Dall'ospizio? Cosa è l'ospizio? Paolo, che è quello lì Con i capelli rossi di noi Grazie Paolo Non esco io, entra Paolo Ok No, rimani Luiz Chi è Paolo? La professionalità va pagata ed è di grande rilevanza Lo so Paolo Enk ti fai le canne? Chi è Enk? Ma faccia mettere poi il povero Paolo Enk, poverino Paolo mi fai avere quel disegno Enk è corista, Enk è un corista cristiano No, no Non sono cristiano Che dici Paolo? No, no No, no Chi era Può Inizendo